Lo scontro al vertice del girone F se lo aggiudica il Teramo di Cifaldi, superiore per bocca dello stesso Fenucci a una iesina rimaneggiatissima che esce sconfitta di misura dal campo di Piano Daccio. Anche il Teramo quanto ad assenze non se la passa granché, ma Borrelli, sostituto di Bolzan, pare già dall'avvio avere una marcia in più. Il suo angolo non trova di un soffio la porta di Niosi, anche se questa è la prova generale del gol che arriva appena scavallato il quarto d'ora. Costa Ferreira rifinisce dalla destra, il 10 Teramano, sempre lui, è il più lesto a sbucare tra le maglie rosse della iesina e indirizzare di testa lì, dove Niosi può solo toccare ma non evitare che la palla termini in rete. Teramo che rischia di subire il pari solo 7 minuti più tardi. Gattari, con troppa leggerezza appoggia di testa dalle parti di Farò, troppo avanzato, traiettoria che pare scavalcarlo, pare, perché l'estremo di Cifaldi è bravo a toccare con i polparstrelli quel poco che occorre per salvare il risultato. Al 34esimo Arcamone dalla media distanza, direttamente da piazzato, sfiora l'incrocio dei pali, poco prima che Rossi tenti, farò ancora sugli scudi il diagonale che trova solo il tiro dalla bandierina. Ancora Arcamone, appena rientrati dall'intervallo, ha sul destro una palla che proprio non si potrebbe sbagliare. Gliela serve Costa Ferreira, difesa Iesina ferma, tutti pensano al gol, ma l'argentino non ha fatto i conti col palo che lo ferma. Conto con la fortuna saldato 180 secondi dopo, Orta trattenuto in area da Bugari, per Casaluci nessun dubbio, rigore che lo stesso Arcamone trasforma di potenza. Sempre Orta potrebbe chiudere al sessantesimo, tutto solo, però si fa bloccare il lob dall'uscita bassa di Niosi. Ma proprio quando la partita, minuto 87, pare avere poco altro ancora da dire, dal mucchio spunta la testa di Focante. Il capitano Iesino anticipa tutti, anche Farò, e deposita in rete la palla che consegna qualche speranza ancora ai marchigiani. Speranza destinata, nonostante i 5 di recupero a rimanere tale, perché al fischio finale il Teramo poterà alzare le braccia al cielo. Cifaldi non guarda la classifica, ma i suoi volano a quota 24. Chapeau sull'altro fronte per Fenucci. Trovare un tecnico che, nonostante le assenze, a caldo riconosce la superiorità degli avversari, è merce sempre molto rara da trovare. Io temevo molto la Iesina, dico la verità, perché è una squadra ben organizzata. Io e il mister ci siamo incontrati 11 anni fa per la prima volta da avversario, lui era già Iesi, quindi lo conosco benissimo, è uno che fa giocare bene le squadre, sono compatte. Abbiamo fatto una grande prova oggi, considerando anche le assenze che ci avevamo, quindi sono contento di questo, penso che il risultato sia meritato. Forse il cruccio che, se chiudevamo meglio la partita, non soffrivamo fino alla fine, così come abbiamo sofferto per quel gol preso nei minuti finali, che ha costretto un po' a difenderci in maniera affannosa su queste palle che buttavano dentro. Fenucci, il gol del 2-1 forse è arrivato un po' troppo tardi. Ah, sicuramente, un po' troppo tardi, soprattutto poi con il recupero che praticamente non si è giocato. Dicevo, sulla vittoria del Teramo non c'è un'ombra di dubbio, è meritata. D'altronde, dicevo, già se avessimo avuto l'organico al completo sarebbe stata molto dura. Con così tante assenze e con così tanti giocatori che hanno giocato ma non erano proprio a posto, diventava anche più difficile. Però abbiamo cercato di mettere qualche bastone tra le ruote del Teramo, qualche volta ci siamo riusciti, qualche altra volta no.